E' di pochi giorni fa l'importante approvazione della rimborsabilità da parte di AIFA del RISDIPLAM, la prima terapia orale per l'atrofia muscolare spinale. Come si è arrivati a questo importante traguardo e che significato assume questa nuova arma terapeutica, questo nuovo farmaco che può essere anche somministrato al domicilio dei pazienti, assunto a domicilio come terapia orale. Noi ne parliamo con la dottoressa Anna Maria Porrini, buongiorno dottoressa, grazie di essere qui con noi, che è il direttore medico di Roche, che è l'azienda che si è occupata dello sviluppo di questo importante farmaco e che ha anche tanti progetti di ricerca in ballo. Allora dottoressa, come siete arrivati a questa approvazione? Per prima cosa buongiorno e grazie. Ma c'è stato un grandissimo impegno per arrivare fin qui. Anni di attività di ricerca e sviluppo, anni di studi clinici per dimostrare l'efficacia e la sicurezza di RISDIPLAM in vari tipi di atrofia muscolare spinale e che hanno permesso l'autorizzazione da parte delle autorità regolatorie di 70 paesi al mondo, inclusa l'Italia. Sono stati anni di grande collaborazione con le associazioni dei pazienti, con i centri clinici in varie parti del mondo, ovviamente inclusa l'Italia, che ha avuto un ruolo molto importante nello sviluppo di questa molecola, anche proprio per la possibilità di essere assunta a domicilio. RISDIPLAM ha ricevuto molti riconoscimenti internazionali, come quello del farmaco dell'anno, dalla British Pharmacological Society, quello della Society for Medicine Research e anche il Prigalienne in Italia. La ricerca e sviluppo di soluzioni diagnostico-terapeutiche e di servizi innovativi in grado di rispondere ai bisogni dei pazienti e di chi se ne prende cura è la nostra missione, è la nostra attività quotidiana, come dimostrato dai significativi investimenti che facciamo in questo ambito. Per farvi un esempio, in Italia nel solo 2021 sono stati investiti 47 milioni di euro che ci hanno visto impegnati in oltre 240 studi clinici su circa 60 molecole, con il coinvolgimento di oltre 1700 centri in Italia e in oltre 200 ospedali. Per noi ricerca significa anche contribuire alla sostenibilità del sistema salute anche attraverso l'accesso precoce a soluzioni terapeutiche innovative. Questo ovviamente per fare in modo che i pazienti che ne hanno bisogno possano veramente poter usufruire e beneficiare di farmaci innovativi nel più breve tempo possibile.